95% delle persone si occupano di quello che si vede davanti alla macchina da presa. Soltanto noi, il regista e pochissime altre persone stanno attenti a quello che si sente. Io mi chiamo Maurizio Argentieri e per vivere mi guadagno da vivere facendo il production sound mixer. Io sto lavorando in questo progetto che si chiama Ripley, è una serie televisiva diretta da Steven Zillian. Intanto è una serie televisiva che si svolge in Italia negli anni Sessanta. Dunque, io ho conosciuto Accent Digital tre anni fa e da quel momento non l'ho più mollato per una serie di motivi. La prima cosa, io mi sono innamorato del suono di Accent Digital perché ha un suono pazzesco. Qui noi combattiamo con la soglia del rumore di fondo dei sistemi. Io in questo caso non devo lottare con niente perché non c'è il rumore. La dinamica del sistema è praticamente infinita. Due, è fatto con un'architettura che può essere componibile. In più, se invece devo essere più piccolo e più agile, ho la possibilità ugualmente di utilizzare delle tecnologie più piccole, come gli ADX5, dove posso continuare a controllare in remoto tutti i trasmettitori e tutte le cose che ho intorno, ma senza rinunciare alla bellezza del suono e alla facilità di gestione e alla portabilità perché sei canali sono piccoli così e sono sei canali che suonano esattamente come il sistema rack. Non c'è nessun tipo di differenza. La cosa più importante che mi viene in mente di sottolineare rispetto all'utilizzo dei trasmettitori ADX1M sono appunto la loro invisibilità sia dal punto di vista fisico ma sia dal punto di vista interventistico. Ossia, io una volta che ho montato per bene un trasmettitore e l'attore poi non se ne accorge più perché è talmente piccolo e facile da montare che appunto fisicamente si abitua subito. E un'altra feature importante di questo sistema è appunto che si ha il totale controllo remoto del trasmettitore sia dal punto di vista delle frequenze, sia dal punto di vista del livello, sia dal punto di vista del mute. è una cosa che semplifica assolutamente la vita e l'attore dà assolutamente fiducia al reparto suono sentendosi protetto. Spesso mi chiedono per quale motivo utilizzo il sistema ADX5D perché secondo me è il miglior sistema wireless che c'è in questo momento. Per me il miglior sistema wireless vuol dire un sistema che suoni in maniera trasparente, che sia affidabile, che non dia problemi ma soprattutto che abbia una gestione della parte di radiofrequenza semplice e immediata. Dico una cosa, io arrivo in un posto con un sistema ADX5D, anzi con tre sistemi ADX5D e uno show link abbinato, io faccio un group scan in qualsiasi posto mi trovo e in due minuti netti ho coordinato sei canali sapendo che per quei sei canali io sono esente da intermodulazione e ho trovato i migliori sei canali nella banda di funzionamento del sistema. Due minuti netti e nel momento in cui io schiaccio il bottone i trasmettitori sono automaticamente sintonizzati con le frequenze che ho scelto sui ricevitori. La cosa per cui mi sentirei di consigliare Accent Digital è proprio per il suono, perché secondo me in questo momento ha il miglior suono che uno può chiedere ad un sistema wireless. Oltretutto è un sistema che non ha problemi. Cioè io da quando ho preso questo sistema, da quando ci sto lavorando tutti i giorni, tutti i sacrosanti giorni, e comunque sono tre anni che io ci lavoro, io non ho mai avuto un problema uno. Grazie a tutti.